Vanno avanti nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova stazione dell'alta velocità a Belfiore e procede lo scavo della Talpa che sta realizzando la galleria per il sottoattraversamento di Firenze. Il punto sull'andamento del cantiere che renderà la città di Firenze ancora più moderna è stato fatto in occasione di un nuovo sopralluogo del presidente della regione toscana Eugenio Gianni insieme all'amministratore delegato di RFI Gian Piero Strisciuglio. La visione che stiamo avendo anche nel sopralluogo di Stamani è quella di una città che cambia e che ha già fatto, da qui a Campomarte ci sono tre chilometri, con la Talpa che ha già completato il rivestimento, mancano solo i binari e la linea elettrica, 1075 metri. La Talpa ormai oltre Piazza della Libertà, sta entrando in via Sparta con Lavagnini e qui noi la stiamo aspettando laddove contemporaneamente si sta realizzando la stazione. Un Camerone scavato fino a 24 metri, finora abbiamo scavato 15 metri, di 450 metri lineari con quattro finestre che da laggiù dove passa il treno ci consentono di vivere il trasporto con la luce naturale. Avrà a quel punto il treno fatto 3 chilometri, 450 metri sono quelli del Camerone, altri 3 chilometri li farà da via circondaria fino a Castello. Però qui si incominciano a vedere le cose, io vorrei qui vedere tutti i toscani, tutti i fiorentini perché sta cambiando il volto della città. Questa è stata l'occasione per rimadire alcuni numeri di questa grande infrastruttura. La lunghezza complessiva del tunnel sotto Firenze sarà una volta ultimato di oltre 8 chilometri da Campomarte a Castello. Ogni giorno sono impegnati 150 lavoratori per un investimento complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro. Per quanto riguarda la talpa Iris riesce a scavare 10 metri al giorno e da quando è entrata in funzione ha percorso 1075 metri arrivando oggi all'imbocco di Viale Spartacola Vagnini. Vanno avanti anche le lavorazioni per la stazione a V Belfiore che si sviluppa in verticale per 25 metri sottoterra il cui scavo è stato realizzato per circa il 60%. Fra le opere veramente importanti questa è quella che sarà più significativa perché cambia il volto della Toscana. Pensate che oggi arrivano 414 treni regionali portando l'alta velocità su questi binari banalizzati e quindi portandola fuori da quello che è le ordinarie ferrovie, ci è stato detto stamani i treni da 414 saranno 616, 200 treni in più il giorno per ferrovie che vengono liberati dall'alta velocità. È un salto di qualità nel trasporto pubblico della Toscana, di tutti i treni regionali pendolari che non avranno più i problemi di due ore di ritardo o di proteste perché l'alta velocità passa davanti al treno più pendolare. Qui davvero si trova spazio per tutti e soprattutto si dà servizio ai cittadini. Grazie al passante a V di Firenze che comprende oltre al sottattraversamento la nuova stazione alta velocità di Firenze e Belfiore, la stazione circondaria per i treni regionali e il People Mover che collegherà questa infrastruttura con Santa Maria Novella sarà possibile ridurre i tempi di percorrenza dell'alta velocità, migliorare la regolarità nel nodo fiorentino di tutti i treni compresi regionali. Saranno poi istituiti nuovi servizi e sarà potenziata la capacità del nodo fiorentino passando dagli attuali 414 treni al giorno ai 616 con il passante in funzione. Nel 2028 ultimiamo i lavori, ultimiamo i lavori ovviamente del sottottraversamento e della stazione Belfiore su cui siamo oggi in cantiere, ovviamente dopo l'ultimazione dei lavori c'è la fase di messa in esercizio che compete anche ad autorità ovviamente preposte a questo. Ultimazione dei lavori 2028 rispetto dei tempi garantito.